E' indirittura d'arrivo, salvo imprevissi, il piano di protezione civile di Pagani. Il Comune Alfonziano è tra quelli che ancora non hanno in dotazione lo strumento messo a punto grazie ai fondi europei distribuiti dalla Regione Campania. Si attende la verifica dei documenti inviati. Se i tempi dovessero allungarsi, il gruppo di protezione civile Papa Charlie ha intenzione di anticiparsi sul fronte della prevenzione con un piano ad hoc in attesa dell'approvazione del documento ufficiale. Su questa scorta la Regione ha riaperto per così dire i termini per la presentazione e nei termini giusti il Comune di Pagani, l'ufficio di protezione civile, ha presentato il piano. Siamo in attesa poi di vedere se questo piano viene approvato. Penso di sì perché non ha grossi intoppi. In questo modo anche Pagani prima o dopo sarà munita. Se dovesse passare molto tempo in Regione si era pensato insieme all'ufficio e all'amministrazione di pensare a un piano speditivo. che serve giusto per dare le indicazioni di massimo in attesa poi che viene pubblicato il piano ufficiale, insomma riconosciuto e approvato dalla Regione Campania. È l'organizzazione, diciamo così tra virgolette perfetta, dei movimenti e dei comportamenti da tenere in caso che si verifica una delle calamità che abbiamo sul territorio. Sarà importante invece e questo lo faremo insieme all'amministrazione comunale e ai tecnici abilitati del Comune con i nostri volontari perché importante sarà poi la informazione alla popolazione. Grazie a tutti.